L'Infomadeia in Reggio Calabria si è appena concluso questo bellissimo convegno, siamo con la dottoressa Caterina Stellitano. È stata una giornata emozionante, un altro successo di linfovita, abbiamo celebrato la giornata mondiale dei linfomi, la consapevolezza della malattia, abbiamo avuto dei relatori importanti, illustri nazionali e internazionali che hanno riportato ai pazienti tutti i progressi, tutte le innovazioni e questi progressi non fanno altro che aumentare la speranza delle cure. Abbiamo anche parlato di coraggio, il coraggio per affrontare la malattia, perché la malattia ci pone di fronte a una situazione in cui noi facciamo la graduatoria dei valori. Al primo posto sicuramente c'è la vita e l'infovita celebra la vita. Io ringrazio tutti gli organizzatori, tutti i relatori che hanno contribuito a questa giornata, ringrazio soprattutto i pazienti per la fiducia che ripongono nella mia persona, che si fanno curare al grande ospedale metropolitano e spero nel futuro di poter realizzare più cose importanti per loro e questo non dipende da me, però la speranza nel mio cuore rimane. Grazie per la visione!